E' un bambino, perchè il nome è il bambino Allora è un bambino, non è un bambino E non è un bambino, non è un bambino E non è un bambino Piazzaino, non è un bambino Siamo in grano Stiamo andando a Bologna Si uccide oggi, non si uccide, lo voglio farmi sentire, anche se c'è gente che urla su questo treno e non si può essere, però io voglio essere educata. E niente, stiamo andando a Bologna, arriveremo tra poco, tra una mezz'ora, direi, alle 11. Siamo arrivati in albergo e adesso è giunto il momento di esplorare, esplorare, la città. Non abbiamo un piano in realtà, non abbiamo alcun programma, alcun piano e quindi andremo in giro così come vogliamo. Siamo arrivati in albergo. Questa è la fila per salire sulla terra degli Agonelli. Abbiamo scelto un giorno un po' sbagliato per venire, perché oggi è domenica e c'è la maratona. Stiamo decidendo dove andare a mangiare. Come si usa la forchetta? Come si usa la forchetta. Hai mangiato bene? Sì, sono soddisfatto. Sei soddisfatto. Questo è un posto veramente carino e ve lo consiglio. Si chiama Ruggine. Sì, Ruggine. Ed è in una stradina molto nascosta dal centro, vedete? Lucrezia Approved. Adesso siamo alla ricerca della famosa finestrella da cui si vede un canale. Non mi vengono le parole oggi. Sono stanca, sto accusando tutto il cibo che ho mangiato. Io non posso neanche prendere un caffè perché mi sono promessa di bere solo un caffè al giorno. Io non posso neanche prendere un po' di bere solo 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 un po'. Io nonemenco. Che cosa ti ricorda questo canale? Venezia? È giusto? Giusto, un pochino. È giusto, un pochino. In miniatura. In miniatura, perché c'è solo un canale. Ma sì, diciamo che... Ma c'erano tipo due. Sono due, gli altri sono tutti murati. Fonti sotterranei. Tutti sotterranei, tutti i canali sotterranei. L'unica cosa è che tutti conoscono questo posto, quindi non è molto speciale. Vero? Quando ci sono venuto io per la prima volta non c'era nessuno. Ci hanno portato l'amico mio. L'amico mio, il mio amico. L'amichetto mio. L'amichetto mio. Allora, siamo venuti in pellegrinaggio, dove? Davanti alla casa dove è nato Guglielmo Marconi. Eccolo qua. C'è anche la targa che potete leggere. Buongiorno, questo è il giorno dopo. Oggi è lunedì, siamo ancora a Bologna e abbiamo tutta la giornata davanti. Sì, infatti abbiamo il treno stasera alle 10. Quindi abbiamo tantissimo tempo, ma ancora non so quale sarà il programma. Forse andiamo da Fico. Andiamo a vedere questo spazio in cui tutti i produttori di cibo presentano i loro prodotti, eccetera. Ed è uno spazio gastronomico che si chiama Fico ed è stato costruito dal proprietario di Italy. Quindi è sempre, diciamo, la stessa azienda, lo stesso marchio, più o meno. Ieri abbiamo camminato tantissimo e nel pomeriggio abbiamo incontrato degli amici di Walter, il mio ragazzo. E quindi siamo stati con loro, non ho più fatto il vlog. E niente, ma abbiamo scoperto due cose molto interessanti ieri. Innanzitutto siamo andati a prendere il gelato e qui non esiste il cono, non esiste la coppetta. Esiste una sorta di, loro lo chiamano, cestino di cialda, fatto di cialda, in cui mettono il gelato e basta. Non si può scegliere una coppetta, non si può scegliere il cono, non esistono qui. E poi, siccome Bologna è praticamente tutta in pianura, non ci sono dei punti panoramici per vedere la città. A meno che non si sale sulla Torre degli Asinelli o comunque sulle terrazze di palazzi molto alti, il che non si può fare. Allora, gli amici di Walter ci hanno portato su una sorta di collina dove c'è una villa antica, che adesso però è una casa di cura. in cui non sono molto sicura che noi potessimo andare, però, dove c'è una terrazza bellissima con tutta la vista di Bologna. E quindi siamo andati lì. Forse non potevamo stare lì, sicuramente non potevamo stare lì, ma comunque ormai è andata. E da lì, da questa terrazza, c'era una vista molto bella di tutta la città. Si vedevano tutti i tetti rossi delle case. Ieri c'era tantissima gente in centro perché la mattina c'è stata una maratona. Quando siamo andati a fare una passeggiata c'era tantissima gente e infatti ho fatto, diciamo, dei clip, anche così, senza parlare troppo perché appunto c'era tantissima gente e tantissimo rumore, quindi non si sarebbe sentito niente se avessi parlato. Dovrei sistemarmi un attimo e poi usciamo e andiamo all'avventura. Abbiamo preso l'autobus, mezz'ora di autobus, non mi guardate! E siamo arrivati a Fico, che adesso leggiamo che cosa vuol dire la sigla, perché l'ho letto prima ma non mi ricordo. Adesso lo scopriamo. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Ti piace questo posto? È meraviglioso, è il posto più bello del mondo. Allora, qui si può... Tutto cibo italiano. Qui si può mangiare, si può comprare il cibo, si può fare la spesa, si può fare tutto, si possono fare i corsi di cucina. È molto bello questo posto. Voglio andare a fare i tortelli. Andiamo a fare i tortelli. Buona. Non è la Gerani, ma è già bella saporita. Ah, comunque ho scoperto. Figo significa fabbrica italiana contadina. Allora, è stato un viaggio di successo. E adesso torniamo a Bologna. E niente, speriamo non piova. Buongiorno da Roma, questo è il giorno dopo il viaggio. Quindi sono tornata a Roma e prima di finire questo vlog, vorrei farvi vedere che cosa ho comprato da Fico. Questa è la borsa che c'è scritto Fico, fabbrica italiana contadini e qui c'è scritto il rispetto è Fico. Allora, vediamo un po'. Ok, questa è una bottiglia d'acqua, niente. Allora, non ho comprato in realtà tantissime cose, solo tre cose. Allora, qui ci sono delle liquirizie. Sono delle liquirizie alla menta, sì, vero? Anche Angelina ha sentito l'odore delle liquirizie. Buono! Allora, queste sono delle liquirizie, è praticamente un pacco regalo, sono delle liquirizie della azienda che si chiama Amarelli, che produce liquirizie dal 1731 e praticamente sono queste scatole un po' d'epoca, sono bellissime. Questa è liquirizia alla menta, questa è liquirizia classica e questa è liquirizia al sapore di anice, quindi questa è molto buona la liquirizia. Ovviamente da Fico ci sono tutti i produttori italiani, non si trovano produttori esteri, ovviamente, perché è uno spazio espositivo per promuovere il cibo e la qualità italiana, quindi trovate solo prodotti italiani. Poi, lì c'è anche una sorta di azienda agricola e quindi coltivano i prodotti e poi producono le loro marmellate, le loro mostarde, la loro verdura, eccetera. Quindi, io, essendo un'amante del carciofo, ho dovuto comprare questa crema di carciofo da spalmare sul pane e poi questa mostarda di cipolle rosse che è anche piccante, quindi questa è buonissima. Ovviamente, prima di comprarle, le ho assaggiate lì ed è per questo che ho deciso di comprarle e poi l'ultima cosa che ho comprato, questa è stata pesante da riportare indietro, questo. Allora, non so se c'è qualcuno di voi che conosce queste bibite, questa è una bibita che viene prodotta in Calabria e si trova solo in Calabria. Vabbè, l'ho trovata a Bologna lì da figo perché è un prodotto tipico, ma è una bibita al sapore di caffè. E ho sentito parlare di questa bibita, non mi ricordo chi me ne ha parlato, ma mi ricordo che poi sono andata a cercare su internet un rivenditore a Roma e a quanto pare non sono riuscita a trovarne uno. Non ci sono rivenditori a Roma di questa bibita. Sono andata sul sito web, ho mandato un'email, non mi hanno risposto. E quindi quando ho trovato questa bibita lì da fico, ho dovuto comprarla. Ho dovuto comprare sei bottigliette di questa. Non ho mai assaggiato questa bibita, quindi questa potrebbe essere molto buona oppure molto cattiva. Non lo so. Praticamente è acqua, oligo minerale, al sapore di caffè. Se questo prodotto è buono e mi piace, potrebbe essere un problema perché non so dove trovarlo qui a Roma. Dovrò assaggiare e vedere se mi piace innanzitutto. Quindi questo è quanto. Questo è tutto quello che ho comprato da fico. E spero che il vlog vi sia piaciuto. E noi ci vediamo presto in un altro video. Ciao!